A conclusione di specifico servizio mirato alla repressione di reati di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione di Postiglione agli ordini del comandante Luca Geminale hanno individuato e sottoposto al sequestro una piantagione di marijuana, sorprendendo un cinquantasenne del posto intento alla coltivazione. L'uomo è stato arrestato e le piante, di varia grandezza, per un peso complessivo di circa 15 kg, tagliate e sequestrate. L'arrestato è stato condotto in caserma per l'espletamento delle formalità di rito e successivamente tradotto in cacera a Salerno Furni.